Amici di Cycle Inside, Gravel Inside, Cicloturismo Inside, eccomi qua con MTB Inside, eccomi qua con The Great Editor Guido Rubino, Luigi Ciccarone, non siamo un bel vedere oggi perché veramente fa un freddo porco. Il bel vedere però l'abbiamo davanti perché siamo in un posto molto piacevole, ma oggi parliamo di un argomento molto importante. Siamo in riva al lago di Varese, con 5 gradi, quindi scusate l'avviamento molto invernale e poco ciclistico. Di cosa parliamo? Parliamo di sicurezza in bicicletta. Ecco, abbiamo già un prodotto, già lo vedete, a proposito di sicurezza in bicicletta, se ne è tanto parlato anche nei mesi scorsi, una lucina mettetela sempre perché la lucina anche di giorno ci aiuta ad essere più visibili, è chiaro che sono gli altri che si devono preoccupare di vederci, ma se siamo più visibili è una mano in più per la sicurezza è meglio non risparmiare. Aggiungerei subito una precisazione, ci sono due tipi di sicurezza in bicicletta grazie a queste nuove tecnologie. Una è quella di farsi vedere, quindi la lucina rossa di cui parlavi tu, qui abbiamo una lucina rossa francamente molto evoluta che è il Garmin Varia, che è un vero e proprio radar, e il farsi trovare, cioè abbiamo un incidente, abbiamo un problema, come fanno a sapere i nostri cari, i nostri parenti, i nostri fidanzati, dove siamo. Il Garmin Varia è una lucina, diciamo un po' uno standard di riferimento ormai del mercato perché non è soltanto una lucina, è una lucina che intanto è un vero e proprio radar, cioè ci segnala sul ciclo computer l'avvicinarsi di un'automobile che sta sopraggiungendo. In più, la frequenza, avete visto, del lampeggio aumenta man mano che l'automobile si avvicina, quindi anche l'automobilista che ci vede più o meno distrattamente, la sua attenzione viene attirata da questo lampeggio che diventa sempre più frequente e in qualche modo gli dice attenzione perché c'è qualcuno qui, quindi attenzione al superarlo. In più, sul nostro edge, come in questo caso, abbiamo un vero e proprio monitor radar perché abbiamo una barra o a destra o a sinistra, possiamo scegliere noi dove piazzarla, che ci indica con un pallino di movimento di sopraggiungere la macchina o del mezzo che ci segue. Ma è anche acustico, vero? Volendo sì, volendo sì. Si può anche impostare un segnale acustico che... Volendo sì, però è un po' fastidioso, quindi... Magari un'auto elettrica che arriva silenziosamente, di questi tempi le auto elettriche sono... No, stavo scherzando, ovviamente poi ci sono tutti... Comunque si può fare. ...settaggi del caso. E questo è un... il Garmin Varia è veramente uno strumento estremamente evoluto, lo si applica con... vedete, questo è l'attacco Garmin, per intenderci. Eccolo qua, insomma, gli attacchi sono questi, lo si attacca con l'apposito sistema di fissaggio tramite un elastico al reggisella e quindi si può mettere in vari... Ci sono anche di... ci sono vari tipi di profilo del reggisella, quindi se è il reggisella tondo, questi riduttori adattatori sono molto molto pratici da questo punto di vista. E questo, diciamo, è la massima evoluzione sul farsi vedere e soprattutto vedere sul nostro display Garmin chi ci sta raggiungendo, chi sta sopraggiungendo. Esatto, questa è la prima livello di sicurezza. Quindi il farsi vedere. Il farsi vedere. Il farsi vedere, esatto. C'è un'altra cosa di cui abbiamo accennato prima tu, Luigi, che sicuramente è una sicurezza in più ed è oggetti di questo tipo qui. Ad esempio, vi facciamo vedere, questo qui è il Toxen. Toxen che cos'è? Semplicemente è un oggetto, vedete, questa qui è la confezione. Si estrae facilmente. Facilmente, ho detto. Eccolo qua. Vedete? Non è nient'altro che... Nient'altro. Questo piccolo oggetto... Stai litigando con le scatole, oggi. Stai litigando con le scatole. Mani fredde e... Questo, guardate, è un oggetto minuscolo. Si applica al casco, c'è un biadesivo ad alta tenuta. E praticamente, questo qui è il cavetto per la ricarica, perché c'è l'innesto. Una porta USB micro, direi. Micro, sì, esatto. E basta scaricarsi l'app Toxen. Se volete si può arrivare anche tramite il QR code presente nelle istruzioni. Cioè, guardare le istruzioni è semplicissimo da utilizzare. E questo strumento qui, praticamente, che si applica sul casco, basta metterlo appunto col biadesivo su un qualsiasi casco, in qualsiasi punto, possiamo metterlo dove vogliamo. In caso di incidente, è in grado di rilevare un colpo secco con l'incidente e è in grado di segnalare a dei contatti che avremmo messo in precedenza sull'app appunto sul nostro cellulare e chiamare, segnalare che ci è successo qualche cosa. Ora, attenzione, non è che basta che ci cada la bicicletta per terra e arrivano ambulanze e parenti preoccupati. Perché ovviamente nel momento in cui si ha un incidente, compare un alert sul cellulare e ci dice, oh, mi sembra sia successo qualche cosa, devo chiamare i soccorsi, abbiamo un tempo per spegnerla. Però sappiamo che abbiamo questa sicurezza qui, perché nel momento in cui dovesse succedere invece, disgraziatamente, qualche cosa, l'app segnala dove siamo tramite il GPS e è in grado appunto di chiamare i soccorsi e avvisare dei contatti che abbiamo eventualmente impostato in precedenza. Ma c'è anche un altro sistema simile al Toxon. C'è anche un altro sistema che dobbiamo dire, probabilmente è anche precedente ed è stato sicuramente uno dei primi. Eccolo qui, lo stiamo facendo vedere adesso e questo qui è l'Angie di Specialized. Inizialmente l'Angie come funziona? Allo stesso modo con un'app che viene scaricata gratuitamente, la parte dedicata appunto alla sicurezza. L'Angie inizialmente veniva applicato soltanto sui caschi Specialized, poi la casa americana l'ha reso disponibile per tutti i tipi di caschi, per cui anche se non ho un casco Specialized posso acquistare l'Angie e applicarlo al mio casco utilizzando allo stesso modo la sicurezza e avendo la segnalazione di un eventuale incidente ai contatti che decido io, comunque anche alla sicurezza se dovessimo aver bisogno di un soccorso. Ma in tema di farsi trovare ricordiamo anche sempre, ritornando alla nostra famiglia Garmin, che tramite il Garmin, il dispositivo Edge che noi abbiamo connesso alla app Garmin Connect, noi possiamo, abbiamo due possibilità con l'app Garmin Connect. Una è quella di inviare il nostro trekking al nostro familiare, al nostro amico, alla nostra moglie, in modo che lei ci può seguire proprio durante tutta l'uscita. E poi abbiamo un'ulteriore opzione che è quella anche in quel caso di se la bicicletta rimane ferma per un certo tempo che noi impostiamo, viene mandato un messaggio. Molta attenzione ovviamente perché se ce lo dimentichiamo arriva un messaggio di alert e poi la moglie può anche scoprire dove sei in realtà. Sì, beh, al di là degli scherzi è un'opzione molto interessante perché viene generato un link che noi possiamo mandare ai nostri amici oppure a chi ci segue durante una competizione o un giro, un tour in bicicletta. E gli amici che visualizzano questo link, possiamo mandarlo tramite messaggistica, eh, velocemente, visualizzano anche per email, questo link praticamente ci collega a una pagina dove noi vediamo la mappa e chi ha ricevuto il link può vedere dove siamo istantaneamente. Perché ogni totte viene aggiornata la posizione per cui sa esattamente noi dove siamo in quel momento e quindi seguire. Lo uso sempre, a mia moglie gli faccio sempre vedere dove sto pedalando in grave o pedalata assistita. Pericolosissimo questa cosa perché se fai una sosta in più in pasticceria lo vede per esempio. Ah, vabbè, ma non mi segue passo passo. Eh, come no male. Si fida che non mangi troppo e male quando sei in bicicletta. Però diciamo che, ragazzi, è molto importante farsi vedere in bicicletta e farsi trovare. Ecco, questo è il messaggio che noi vorremmo trasferire. Non cerchiamo di non essere superficiali perché questo è molto molto importante. Esatto, almeno una luce, pure se non volete esagerare col varia, ma non è un'esagerazione. Perché guardate, tutti quelli che ce l'hanno hanno detto sì, non costa pochissimo, ma ne vale la pena. Perché quando si parla di sicurezza non è mai un investimento eccessivo. Cioè, questo non è un investimento eccessivo. Esatto, e poi è anche vero che magari in certe situazioni, quando ad esempio pedaliamo in gravel, su sterrati o anche in mountain bike, non è poi così importante farsi vedere perché il traffico è ridotto o totalmente assente, ma soprattutto è importante farsi trovare. Quindi ragazzi, attenzione a sistemi che si possono applicare sul casco o al Garmin Connect, perché può essere, speriamo di non usarlo mai, ma può essere veramente molto 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 importante. E una tranquillità in più, diciamo, più serenamente, adesso a prescindere da eventuali problemi. Speriamo di essere stato di aiuto perché io mi sono completamente congelato in riva al tuo amato lato di Borese. Io chiudo la giacca così, non faccio tu. Chiudo la giacca, io il cappellino. Amici, che dire? Ovviamente scriveteci nei commenti i vostri eventuali considerazioni, suggerimenti, cosa fate voi, quali altri sistemi utilizzate per la sicurezza in bicicletta e diamo appuntamento a un prossimo video, magari in un contesto un po' più caldo, magari pedalando. Ma anche in bicicletta, sì, questa volta siamo seduti, ma pedaliamo anche, insomma, non è che stiamo solo seduti. Va bene, ciao amici, alla prossima, ciao ciao.